Ben ritrovati dalla redazione di Frones Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Roma, tra Aglio e Calenzano, coda per incidente. Tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma, veicolo fermo in carreggiata per incidente. Tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma, traffico ralentato per materiale disperso in carreggiata. L'entrata dello Svincolo, chiusi e chiusa per lavori in entrambe le direzioni, riapertura prevista per le 17 di oggi. Passiamo alla A12 dove in direzione Livorno troviamo coda per lavori tra il nodo A12 raccordo Luca Viareggio e il bivio A12 raccordo A11. Nel raccordo autostradale Sina-Firenze in direzione Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tavarnelle e tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!